All'8 settembre e le condizioni di questo cantiere, di questa detta nell'antico dialetto ricastrese, l'ametino, a Raviche e San Pietro, qua non si muove nulla. Sono giorni che il cantiere è abbandonato, non ci sono dipendenti, operai, muratori, eccetera, a finire quest'opera, la gente si comincia a stufare, ditemi voi se è possibile lasciare un'arteria così importante della città abbandonata a se stessa. Sono giorni che dopo le ferie non ci sta lavorando nessuno, se non qualcuno che ha fatto queste massette in cemento credo per i pozzetti per le valvole dell'acqua corrente, della storical, quindi ditemi voi se è normale che in città sia lasciato così questo ponte alle calende greche. Gli automobilisti siamo tutti stufi, 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 che lo sappiano e lo sapessero in un ufficio tecnico a tutti, a tutta la giunta, a tutti gli obiettivi e i responsabili di quest'opera. Troppo ritardo, si parlava di fine luglio, di fine agosto, ma che? Siamo a metà settembre e ancora l'opera è da terminare. Diteci voi, quanta gente mi sta fermando? Diteci voi.